Questo è un tronotto, in questo caso disegnato per PH, è un 2,5, 27,5 x 50, è un cerchietto rigido, doppia cappacca, quindi è molto robusto, un po' pesantino, però molto performante. Quattro mescole, cosa vuol dire? Che in ogni battistrada ci sono quattro differenti tipi di gomma, due sotto nel cassetto e due tipi di mescola sopra, in modo tale che la mescola più morbida sia esterna, che è quella che dà più performance, ma la mescola interna che è più dura evita che il cassetto ceda e si sfratti, quindi dovreste avere questa sensazione. All'interno sono stati montati gli airliner che sono a este, in questo caso vedete la misura S, in altri piccoli, ci sono in Italia N, sono più grandi, è un prodotto, è un polimeno della diversità, evita lo spike pipe, quindi che le coperture si pizzichi, si può andare a pressioni più basse, quindi se volete provare a sbocchiare un po' più, non è un problema. Nel caso di forature si può pedalare in manfle, quindi ti porta come una casa e noi andiamo a provarlo. È un sistema anti-foratura ma che ti permette anche di avere quasi una specie di ammortizzatore interno della gomma. Mi resta che provarlo, buon divertimento, non cercate di non staccarvi. Possiamo esperienze con alcune pressioni di aeropressure, la cosa bella è che puoi andare a lavorare con molto bassa. Ma io consiglio che non ci sia più di aeropressure in qui. E' molto bella, quindi vogliamo andare a lavorare qui. Ok, buon divertimento ragazzi! Buon divertimento!